Io credo che non deve farlo a Juve, sta diventando ancora più forte e sarà un antagonista. Stanno parlando dell'Inter, stanno parlando dell'Inter, non abbiamo sognato, scusa. Quindi voglio dire, finché adesso questi roboanti nomi, quindi per l'amor di Dio, poi dopo arriveranno 11-12 giocatori su cui votare, come André Silva l'anno scorso per il Milan, quindi se D'Auto Martini non dovesse confermarsi, adesso questi roboanti nomi, quindi per l'amor di Dio, Stanno parlando dell'Inter, stanno parlando dell'Inter, io credo che non deve farlo a Juve, sta diventando ancora più forte e sarà un... Arriveranno in angola... 11-12 giocatori su cui votare, non abbiamo sognato, scusa. Quindi voglio dire, finché...